Amici per la pelle sul teleschermo blu, benvenuti ad un nuovo appuntamento con le classifiche del TG Comics alias Forbidden Planet Roma. Il secondo mese di classifiche è febbraio un po' più corto, come si dice qua Roma febbraro corto e amaro, è già arrivato in un battibaleno, sembra ieri che abbiamo fatto la prima classifica mensile e ci troviamo di nuovo qui e subito con una novità perché di fronte alle tantissime richieste che ho ricevuto non mi limiterò soltanto alla top 20 ufficiale dei 20 titoli proprio in lista che hanno venduto di più ma anche alla classifica dei titoli diciamo quelli che per causa anche del prezzo non riescono proprio a generare una mole di vendite tale da comparire nei primi posti, stiamo parlando ovviamente dei volumi di tutte quelle uscite che tra cartonati, brossurati ed altro godono di una minore fruibilità rispetto a quello che può essere un manga da 4,30€. Quindi comincerei subito proprio con questa top 10 dei volumi o albi fuori formato, chiamiamoli così. E al decimo posto troviamo il terzo volume edito dalla Star Comics, questo cartonatino di Conan il Cimmero, terzo volume dal titolo Oltre il fiume, da un racconto di Robert E. Haworth, di Mathieu Gabellat e Anthony Jean, o Jean, o come più vi piace. Vi faccio vedere di nuovo, anche se abbiamo mostrato nel TG Comics, la qualità dei disegni e dei colori di questo albo, veramente molto molto interessante. Vi ripeto, è il terzo uscito, il prezzo 14,90€. Al nono posto, fresco fresco fresco, perché è arrivato martedì scorso, uno dei tre volumi usciti per la Osamushi Collection della J-Pop, quella collana che si ripropone di ristampare l'opera di Osamu Tezuka e abbiamo Neo Faust, eccolo qui. Prezzo 15€, volume unico, con sovraccoperta. Eccolo qui e vi faccio vedere un po' dei disegni all'interno del grandissimo maestro giapponese. J-Pop, ricordo. Poi saliamo all'ottavo posto, abbiamo un Marvel Masterworks, che è andato benissimo, anche questo non è uscito da tanto tempo, forse un paio di settimane. Abbiamo il Masterwork di Miss Marvel, che contiene i primi 14 numeri di questa collana. Prezzo 25€ per la Panini Comics. Devo dire, sempre molto molto apprezzati. Al settimo posto, una particolarità, un editore sempre molto attivo nell'investire sui giovani e sui nuovi talenti, abbiamo la Shockdom con Charon, o Caron, come penso si dica, numero 2 del nostro amichetto Fabio Listrani. Eccolo qua. Ha goduto sicuramente della promozione dell'incontro che abbiamo fatto qui e del firmacopie al Forbidden Planet, ma fatto sta che si colloca in settima posizione. Il prezzo è di 12€ e vi faccio vedere i disegni bellissimi di Fabio. Ecco qua. Bell'albo, veramente realizzato molto molto bene. Sesto posto si sale, anche questo è abbastanza recente. Abbiamo Uber Invasion, il volume 7, sempre per Panini Comics, prezzo 18€, che pubblica una storia della Avatar Press. Eccolo qua. Guerra totale. Gli autori Kieron Gillen e Daniel Goethe. Ecco qua. L'interno un po'. Di questo Uber. E via così. Si continua. Saliamo al quinto posto. Al quinto posto. Mi sono segnato tutto quanto. Abbiamo, eccolo qua, la Venom Collection con Maximum Carnage parte seconda. Eccolo qui. La conclusione del ragno crossover del 1993. Prezzo 22€. E ci troviamo all'interno Gianmarc De Matteis, David Michelini, Mark Buckley, Sal Buscema, credo Ron Lim. Eccolo qua. Facciamo vedere un po' dell'interno. Storie veramente ormai diventate immortali, insomma. Un uomo ragno moderno. Quarto posto. Il personaggio candidato per la prima volta agli Oscar come miglior film. Eccolo qua. Pantera Nera, l'impero intergalattico del Wakanda. 17€, Panini Comics, che contiene Black Panther, la serie del 2018, dal numero 1 al numero 6. Taneshi Coatz e Daniel Acugna. Ogni volta lo pronuncio in maniera diversa questo Taneshi Coatz. Eccolo qui. Ma il succo rimane sempre lo stesso. Un personaggio che ha ormai sfondato nel mondo dei supereroi. attenzione saliamo sul podio dei volumi più venduti nel mese di febbraio e arriva la Bau con Gideon Falls di Jeff Lemire e il nostro Andrea Sorrentino. Abbiamo fatto anche una recensione per questo volume della Bau che ci è piaciuto veramente veramente tanto. Ed è piaciuto anche a voi perché l'avete premiato con la terza posizione. Prezzo 18€. Storia di questo fienile nero che compare. Attenzione. Molti misteri. Molto copo. Mi piace. Mi è piaciuto veramente tanto. Poi un personaggio che nasce dalle pagine di Kickass. Secondo posto per Hitgirl in Canada. Il secondo volume. Eccolo qua. Dopo la Colombia e il Canada. Il prossimo video. Eccolo qua. Eccolo qua. Eccolo qua. Eccolo qua. Se non vado errato. Sulle tracce dei trafficanti. Prezzo 16€ con Jeff Lemire e Eduardo Risso. E però anche qua di nuovo Lemire per disegni sempre bellissimi di Risso che io adoro. Non poco. Bel volumozzo. Bel volumozzo. Abbiamo detto 18€. Confermo. 16€. 18€ era quello di prima. E Trionfa. colei che a breve comparirà sui nostri grandi schermi. Capitan Marvel. Eccolo qua. Questo volumozzo. Origini oscure. Con la serie del 2017. E comprende i numeri di Capitan Marvel. 125 al 129. 16€. Un universo al contrario. Autori Margaret Stoll e Michele Bandini. Ecco qua i disegni. Bene bene bene. E finita la classifica dei volumi andiamo direttamente alla top 20 dei fumetti più venduti a febbraio 2019 qui al Forbidden Planet Roma. Sembra non esserci soluzione di continuità perché proprio gli ultimi due posti della classifica manco a farlo apposta sono occupati da due volumi extraformato che vuol dire che hanno venduto una cifra. E abbiamo al ventesimo posto il secondo capitolo di Caravaggio di Milo Manara. Eccolo qua. Per la Planet Manga. Sì buonasera per la Panini Comics. Prezzo 16€ e 90 ragazzuoli. Per la Panini Nobel devo dire. Bellissimo volume. La Grazia. 16,90€ e scendiamo a vedere un po' di disegni del grande Manara. Eccolo qua. E al diciannovesimo posto ultimo volume il secondo capitolo di Batman lo scuro principe azzurro. La storia ideata disegnata da Marini. Eccolo qua. Enrico Marini. Prezzo 15,50€. La storia di questa bambina che viene rapita dal Joker e Batman farà di tutto per liberarla. Spettacolari i colori e i disegni di Marini. Ecco qua. Una scena prigna e densa di azione tra Batman e Catwoman. Molto 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 bello. È stato un mese anche gennaio batmanofilo ma pure febbraio non scherzava. Bene. Andiamo alla posizione numero 18 dove abbiamo un tricksequo. Un tricksequo dove c'è il 43 della Justice League per la Lion. Prezzo 4,50€. Un altro spillato che è Wolverine. Il 374 ovvero il 48 della nuova numerazione. Prezzo 3,50€. E il primo manga che vuole essere Black Clover numero 15 per la Planet Manga. 4,50€. Eccolo. Questa è la diciottesima posizione. Salendo alla diciottesima posizione abbiamo Tokyo Ghoul Re. Numero 15. Ecco c'è da dire una per la J-Pop. Bisogna fare una specifica per queste classifiche. Ci sono titoli che si ripanano ovviamente su più mesi. Quindi non ci meravigliamo se qualche titolo non lo troviamo in vetta ma magari a metà classifica perché una parte delle vendite dipende anche dalla data d'uscita. Magari sono state a gennaio oppure proseguiranno poi direttamente dentro marzo. L'unica verità assoluta tra virgolette è la classifica generale che facciamo a fine anno dove viene conglobato tutto quanto il volume delle vendite in assoluto. Ci sono anche titoli che compaiono nella classifica di gennaio anche quella di febbraio che adesso andremo a vedere. Quindi diciottesima posizione abbiamo fatto vedere Tokyo Ghoul Re numero 15 che mi pare essere il penultimo numero o l'ultimo. Boh siamo lì insomma. Non manca molto. Sedicesima posizione abbiamo Daredevil numero 89. Eccolo qui. Prezzo 3 euro e 50. Soul e Anderson. Facciamo vedere una cosa così al volo. Sbabbè un po' d'azione. Eccolo qua. Questi sono comunque tutti i volumi che già conoscete. E il numero 47 nonché il numero 4 il Flash Start del Doctor Strange. Eccolo qui. Salendo in quidicesima posizione abbiamo una variant e non ho sommato le copie della regular e della variant. Ma queste sono proprio le copie vendute della variant per X-Men oro numero 16. Eccolo qua. Dove c'è il matrimonio. Un matrimonio. Prezzo 6 euro. Questa è la cover partecipazione. Sarebbe il 344 della numerazione degli incredibili X-Men. Saliamo 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 e chi troviamo? L'immortale Hulk al posto alla posizione numero 14. Bellissimo questo numero. L'ho letto proprio ieri. Abbiamo un Bennett in forma strepitosa e Ewing che scrive veramente da Dio. Bellissimo l'incontro tra Wolverine e Sasquatch. Bellissimo bellissimo bellissimo. Battaglia bestiale per un Bennett secondo me bestiale. Veramente i disegni clamoroso. Gli albi da 2 euro. E poi saliamo alla posizione numero 13 con Infinity Wars numero 3. Eccolo qua. Per il prezzo di 3,90 euro. Jerry Duggan e Mike Deodato Junior. Così al volo. E poi e poi si sale ancora e guardate un po' chi c'è. C'è Venom alla posizione numero 12. Venom numero 6 che veramente sta vendendo molto molto bene neanche quindicinale se non sbaglio. 3,50 euro per la nuova rincarnazione di Venom ad opera di Donny Cates. Eccolo qui. Salendo salendo troviamo un prodotto Lion. Abbiamo Batman il Cavaliere Oscuro numero 22 alla posizione numero 11 al prezzo di 5,50 euro. R.V. Lion appunto. facciamo vedere un po' dell'interno così al volo. E altra produzione R.V. Lion sempre del mondo di Batman. Abbiamo il numero 50 della collana regolare di Batman alla posizione numero 10. Prezzo 3,95 euro ragazzuoli. Eccolo qua. Ma poi si sale si sale si sale e qui c'è un altro ex equo alla posizione numero 9. Mi pare ben tre testate. Abbiamo Thor numero 238 che corrisponde al 5 del Fresh Start. Prezzo 2 euro di Aaron Award. Tony Stark Iron Man numero 4 che corrisponde al 68. Eccolo qua. Con slot eschiti. 68 sì. Sempre prezzo 2 euro. E poi Dragon Ball Super che è uno di quei titoli che vi dicevo abbiamo trovato anche nella classifica di gennaio. Significa che ha continuato a vendere e quindi ovviamente se poi sommate gennaio e febbraio vedete che nella classifica di fine anno sicuramente salirà un botto. Eccolo qua. 4,50 euro per la Star Comics. Toriyama e Toyotaro. Via si sale posizione numero 8 e ritroviamo ancora Venom con il numero 5 e cambiamo supereroi perché abbiamo gli Avengers di Jason Aaron. Eccolo qua. Il numero 4 ossia il 108 della collana. Prezzo 3,50 euro con un paio di storie. E sempre al numero 8. Erano tre titoli. Abbiamo il Capitano America numero 3. Ovvero il 106 della numerazione regolare. il 3 del Fresh Start. Posizione numero 8 di Kurtz e Leonil Francis Yu. Eccolo qui. Saliamo, saliamo, saliamo ancora. Ed ecco alla posizione numero 7. L'uomo ragno 715. Ovvero il numero 6 della numerazione regolare. Eccolo qui. Prezzo 3,90 euro. Spencer Ramos, Zarsky, Kubert e Bendis. Un botto del gente. Eccolo qua. Uomo ragno 715. Posizione numero 7. Saliamo alla 6. Dove troviamo un'altra testata molto fresca. Un ritorno graditissimo. Quello dei Fantastici 4. Con il numero 3 del Fresh Start o 387. Se vi piace di più la vecchia numerazione. Con slot e pichelli. 3,50 euro. Perché poi c'è un'altra storia del 2 in 1. Eccolo qui. facciamo vedere uno spaccato di segni della pichelli. E via. 3,50 euro. Lo abbiamo detto. Si sale. Si sale. Si sale. Posizione numero 5. One Punch Man numero 15. Anche lui era nella classifica del mese scorso. sempre altissimo. Quindi potete capire da soli che vende un boato. 4,50 euro. Per la creatura di Wan e Yusuke Murata. Murata. Eccolo qua. Veramente uno dei personaggi più amati in assoluto. Saliamo al quarto posto. freschissimo. Recentissimo. E ho come l'impressione che lo troveremo anche nella classifica di marzo. Al quarto posto. L'Attacco dei Giganti. Numero 26. Subito subito. Nelle primissime posizioni. 4,50 euro. Per la Planet Manga. Ma saliamo sul podio. Molto molto interessante. Al terzo posto. Ritroviamo l'Uomo Ragno. Con il numero 716. ovvero il numero 7 della nuova numerazione Fresh Start. Prezzo sempre 3,90 euro. Inutile che ve lo dica ancora. Facciamo vedere uno spaccato così. Nell'interno. Dovrebbe essere arrivato Ramos. Anche qui. Si c'è Ramos. Posizione numero 2. Uno degli eventi più attesi e acclamati. Questa cover vi dice tutto. Abbiamo il Batman numero 51. Per la RV Lion. Prezzo 3,95 euro. Medaglia d'argento. E secondo voi chi potrà aver trionfato codesta volta nel mese di febbraio al numero 1? Vi dico solo che era nella classifica anche di gennaio. Alla posizione numero 14. Quindi evidentemente era appena entrato. Ma a febbraio ha dato il suo meglio. Eccolo qua. One Piece numero 89. Per la Star Comics. Prezzo 4,30 euro. Questo è il fumetto che ha venduto di più a febbraio ragazzuoli. E se a gennaio nelle prime tre posizioni c'erano tre manga, questa volta ha trionfato sì un manga. Però gli altri due gradini del podio, il secondo e il terzo posto, sono stati occupati da due supereroi. Uno della Lion e uno della Panini. Avete visto come si sono evolute le posizioni in classifica. Bene, spero di avervi fatto cosa gradita con questa nuova rubrica e anche con la nuova aggiunta dei volumi messi in classifica. Questa top ten dei volumi. Con l'occasione io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui. Vi invito come sempre a mettere un mi piace che aiuta il canale e i video a diffondersi su YouTube. Vi ricordo di iscrivervi e di attivare la campanellina se volete rimanere sempre informati sull'uscita di una nuova videata. Così che vi tenga compagnia e nell'info box trovate tutto quello che potete, come dire, esservi di aiuto sia nella navigazione sull'internet o per sostenere il canale e acquistare qualche cosa. Se non aveste una fumetteria nelle vicinanze, iscrivervi sia a Facebook, sulla pagina del TG Comics, quella del Forbidden Planet, ma anche su Instagram. Magari vi metto tutti quanti i link alla mia pagina personale, quella di Ux72 e quella del Forbidden Planet stesso. Con l'occasione vi saluto e vi ringrazio. Visto che c'è il derby, forza Roma e abbasso la Lazio. Ovviamente sempre scherzando. Un saluto e che il Cipri Mer lo vegli sempre su di voi. Ciao!